Ciao a tutti e bentornati a ToySanFan, io sono il Guru e benvenuti al nuovo video! Cari amici, oggi di nuovo siamo qui con il Play-Doh e abbiamo, come lo so, un... ...ferra, un occhino a ferra, come chiamarlo? Vabbè... ... ... ... ... ... ... ... ..." ... ... ... ... ... ... ma, insomma, non deve piacere, non deve piangere, non ho i denti, guarda, ho bisogno dei miei denti, devi aiutarmi, corro, fammi pensare, allora, proprio casualmente, guarda caro dottore, ci sono dei denti, proprio nella macchinetta, potrei, insomma, prenderli e metterli, sì, sì, prego, ti prego, ho bisogno di denti nuovi, guarda, saprò un donno, vuoi prendere i denti? Sì, ok, allora spostati, ok, ho già un paio di monete, e poi potremmo prendere qualche dente, quanti denti ti servono? Uno, due, quattro, sei, otto, oh, sedici, ok, però possiamo fare, allora spostati, prendiamo la nostra, ok, e allora prenderemo qualche dente nuovo, allora, dove si accende? Dobbiamo accenderlo, eh, perché è spento, oh, uh, 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 acceso, oh, quanti denti, li voglio io, muoviti, sì, sì, ok, ok, è un pochino alto, eh, e vai, prego, Yeah, e vai, abbiamo il primo dente, guarda, che bel dente, dottore, apri la bocca, ahhhh, sì, ho un dente, uh, 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 ok, quindi dobbiamo ancora farlo per 15 volte, Allora, via, oh, una moneta, arrivo, arrivo, ok, ecco qui la moneta, e via, oh, non funziona più, dottore, penso che abbiamo un problema, Noi No. Cosa? Cosa? No! Ho perso! Allora di nuovo? Allora di nuovo! Allora di nuovo! Allora di nuovo! Allora di nuovo! Ok dottore? Oh! Pokémon te ne? Pokémon te vieni un attimo! E allora quanti denti mi puoi dare? Eh? Dimmi tanti! Ho tutti! Oh! Voglio avere di nuovo i miei denti! Allora fammi vedere un attimo! Allora! Ho ancora una... Due monete! E... Sì! Allora! Vediamo quanti denti abbiamo qui! Due! Tre! Tre! Oh! Proprio bello! Guarda! Tre! Tre! Ancora tre! Nove! Denti ne abbiamo! Oh! Questo non è molto carino! Però vabbè! Nove! Ancora due! Undici! Andici! Andici! Mi sono decidenti! Sono meglio che nessuno! Apri? Aaaaaaaaaaaah! Ok. Continuiamo ma non fare nessun rumore ok? Allora! Vediamo! Che dente ti mettiamo! Uh huhacca! Allora... Quello nero! ha abbinato la tua lingua quindi lo mettiamo qui davanti qualche due marroni davanti poi un altro ancora lì anche questo che sono abbinati poi qui uno giallo qui oh guarda ne mancano solamente quelli dietro oh perché non entra? oh oh accidenti allora cambiamo ok ok e poi c'è questo sì allora dottor dente d'ondolante ora contento? sì guarda dei nuovi denti uh uh grazie grazie spisa e cura grazie ma ma non sono dei più belli però diciamo che però meno dei denti uh 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 sì allora me ne vado eh ok a mangiare dei dolci ciao ma un momento un momento ma oh accidenti accidenti sì vabbè ragazzi questo è quanto abbiamo dato dei nuovi denti al nostro dottor denti tremolanti eh sì direi che questo era quanto se vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al nostro canale mi raccomando e non perdete nessun video di tutti quelli che abbiamo già fatto guardate che sono davvero bellissimi e scriveteci nei nostri commenti cosa ne pensate che video vorresti fare che facessimo e quindi sì insomma grazie per seguirci e questo era quanto alla prossima ciao